gentili telespettatori buona giornata per quanto riguarda il gas dal pericolo ci chiudono il gas si va al pericolo ci aumentano il gas ecco tra i due credo che la russia piuttosto che chiudere il gas e non avere entrate economiche perché magari non riesce a venderlo ad altri dice beh piuttosto che chiudergli il gas il gas raddoppialo così vedi quanto gli costa perché ha uno stesso effetto allora chiudere il gas ha l'effetto che le aziende potrebbero chiudere aumentare il gas al doppio ha lo stesso effetto che le aziende potrebbero chiudere e allora vediamo che cosa succederà nelle prossime settimane la germania ha annunciato la sua agenzia per il gas il supplemento in bolletta sul gas che i tedeschi si troveranno da questo autunno 2,419 centesimi di euro netti in più per kilowattora a comunicarlo è stata la trading hub europe l'associazione dei gestori del settore che ha elaborato la cifra dopo che il governo tetesco ha promesso ai fornitori di gas di scaricare sui consumatori gli altri prezzi gli alti prezzi che da mesi stanno affrontando sul mercato internazionale i costi aumentano non c'è modo di evitarlo dice il cancelliere tedesco olaf schultz i prezzi dell'energia continueranno a salire ma non lasceremo nessuno da solo il governo tedesco sta valutando di non chiudere le centrali nucleari ha già speso 30 miliardi la stessa quantità di risorse messe in campo dal governo italiano per i primi due pacchetti di aiuti e sgravi e l'esecutivo sta ora lavorando a un terzo pacchetto per sostenere i più deboli e le imprese resta però la gas umlage se si legge così che peserà molto sui conti di famiglie e imprese in germania una famiglia di quattro persone che consuma 20.000 kilowattora annui dovrà affrontare un aumento di circa 480 euro all'anno questo varrà però per una parte dei consumatori solo la metà dell'abitazione ed edifici del paese usa infatti il gas per il riscaldamento le aziende che usano il gas per la loro produzione soprattutto nei settori della chimica e del vetro non solo gli aumenti sono calcolati senza iva del 19 per cento che aggiungerebbe altri 0,46 centesimi per kilowattora berlino ha chiesto pochi giorni fa alla commissione dell'unione europea di poter esentare dal supplemento gas dal liva bruxelles oggi risposto che non è possibile una vera e propria stangata arriverà anche in italia dove dati 2021 17,5 milioni di abitazioni sono riscaldate con gas metano fino ad oggi le tariffe di luce gas per chi ha per chi è in maggior tutela cioè non è passato sul mercato libero sono stabilite ogni trimestre dall'autorità arera che le fissa per la parte che riguarda il costo della materia prima al prezzo del gas dei contratti future cioè sul futuro sul mercato all'ingrosso del riferimento in europa che è il tf tff di amsterdam che in questi giorni sta toccando livelli record di sempre sopra i 230 euro al megawatt ora 10 volte di più rispetto a un anno fa quando oscillava intorno a 27 euro al megawatt ora e più che doppio rispetto al secondo trimestre del 2022 quando la russia non aveva ancora iniziato a ridurre i flussi e il prezzo era sotto i 100 euro al megawatt ora bene cioè bene è un eufemismo per andare incontro al ai rincari il governo italiano ha fatto degli aiuti il decreto legge aiuti bis e ha introdotto una misura che vieta alle aziende fornitrice di luce gas di attuare aumenti unilaterali nei contratti fino al 30 aprile 2023 ma questo provvedimento che blocca i prezzi dell'energia sul mercato libero rischia di diventare un boomerang per i consumatori non potendo adeguare i prezzi di vendita all'aumento dei costi di approvvigionamento all'ingrosso molti fornitori rischiano il default il fallimento in tal caso i clienti finali pagherebbero i costi di eventuali salvataggi oltre che quello di una riduzione delle offerte disponibili realmente si parla di un incremento di del 60 per cento della bolletta da settembre ottobre quindi tra poco tra poco potrebbe esserci un incremento del 60 per cento della bolletta cosa vuol dire che una bolletta del gas che costava 100 euro diventa 160 una che costava 200 euro diventa 320 euro da 200 a 320 euro da 50 euro una bolletta diventa circa 80 euro più o meno sto facendo i conti a mente questo aumento è sui prezzi che sono già aumentati quindi rispetto al prezzo di due anni fa questo 60 per cento in realtà è molto di più perché il 60 per cento è in base già ai prezzi aumentati è un 60 per cento sui prezzi già con l'aumento fino ad oggi capite che questo porta a un problema economico enorme indipendentemente che il l'inverno sia rigido o non sia rigido sta di fatto che nel nord italia dove fa più più freddo soprattutto nelle zone tipo val d'aosta bolzano trento molti hanno la stufa pallets molti hanno il camino credo che in molti torneranno a installare camini stufe a pallets perché riscaldare adesso con il gas diventa un qualcosa di veramente problematico per le tasche dei cittadini perché con un prezzo del genere diventa proibitivo per una famiglia media di classe media riscaldare una casa comincia a diventare assolutamente proibitivo allora a quel punto è meglio stare al lavoro diceva tanto siamo tutti al lavoro tu sei a scuola siamo al lavoro la casa sta chiusa la teniamo spenta dice quando arriviamo la sera ci si copre con ecco io ho conosciuto una famiglia che realmente non accendeva quasi mai il riscaldamento in casa stavano con giravano con una coperta quindi ma il doppio maglione eccetera eccetera in più una coperta e giravano per casa così ogni tanto accendevano una stufetta giusto per dare una botta però giravano con la coperta questo però dieci anni fa oggi ancora ancora di più faranno così credo grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti e grazie